Di Lauro, eccolo. Il capitano è pronto a ricevere fra le mani la coppa dalla gecchina Paola Nuzzo, mentre partono anche i coriandoli e inizia la festa del Napoli. Napoli campione, Napoli scudettato, Napoli che la prossima stagione potrà freggiarsi del tricolore sulle proprie magliette e partono anche i fughi d'artificio. E' uno spettacolo il Trofeo Jack, uno spettacolo per tutti, lo spettacolo di tutti, uno spettacolo durato 18 giornate. Within the sound of silence